L'ultimo volume di Limes del 2019, che poi cari lettori varrà anche a gennaio perché il prossimo uscirà a febbraio, è dedicato all'impero americano, alle sue origini, al suo sviluppo, al suo stato attuale. Compone, insieme ai due precedenti volumi, dedicato il primo al muro portante, cioè all'Europa del dopomuro di Berlino, e l'altro alla strana coppia Cina-Russia, una sorta di trilogia di Ordolandia. Voi ricorderete senz'altro la carta di Limes denominata Caoslandia, che divide il pianeta in due aree, l'area del caos e appunto l'area dell'ordine. Ci siamo mossi in quest'area nei numeri che ho citato, cioè in Europa, in Cina, in Russia e appunto alla fine nel principale degli imperi attuali e probabilmente degli imperi di ogni tempo, quello degli Stati Uniti d'America. In questo numero noi sondiamo anche attraverso il contributo originale di autori americani e non solo, quello che è il suo stato di salute attuale, anche il rapporto a quelle che sono le sue caratteristiche fondative, e cioè una missione universalistica divina e una postura militare, una disponibilità all'espansione, alla conquista e al progresso, che è caratteristico di questo tipo di impero fin dalla sua fondazione. Ci sono molte contraddizioni ovviamente nel modo di pensarsi e di essere degli Stati Uniti, quella fra Repubblica e Impero potrebbe essere la più visibile o anche il fatto di parlare di democrazia senza averla iscritta in Costituzione, ma quello che più ci interessa oggi è se questo impero, come raccontano i media, almeno quelli più importanti, sia se non in declino quantomeno in ritirata, oppure no. Da un punto di vista retorico, cioè prendendo per buoni i tweet e i discorsi del Presidente Trump nel frattempo finito sotto impeachment dalla Camera dei rappresentanti, si potrebbe dire di sì. Nella realtà concreta vediamo molto plasticamente come il ritiro, a parte il fatto che sarebbe difficilmente realizzabile, non sia né le intenzioni né nei fatti degli americani. In particolare anche in Europa la presenza militare, sia pure in maniera non straordinaria, è aumentata e tutti i vincoli economici, culturali, geopolitici che legano l'impero alle sue province appaiono rafforzati. Abbiamo chiamato questo numero America contro tutti perché effettivamente pare che da Washington se l'abbia un po' con tutti, cinesi, russi, turchi, chiunque sia considerato in qualche modo di ostacolo a questa espansione. A un'analisi fine evidentemente appaiono dei caratteri più selettivi, ma resta il fatto che l'impero americano è impegnato su vastissima scala in tutto il pianeta e qui dovrà incontrare e poi sciogliere la riserva intorno alla sua capacità di resistere a quella malattia della sovraestensione che in genere fa abbastanza male agli imperi. Grazie.